Senti questa, alla vigilia di Natale a Chicago i telefoni sono rimasti intasati per due ore quando un bambino ha telefonato a una di quelli vittenti dicendo che suo padre ha bisogno di una nuova moto. 2000 donne hanno chiamato per chiedere il numero di quel tale. Caro insonno di Seattle, sei l'uomo più attraente su cui abbia mai messo le orecchie. Ho tutte queste fantasie per un uomo che non ho mai neanche visto e che mi ne ha Seattle. Dalla sceneggiatrice di Harry ti presento Sally. Ciao. Ciao. Tom Hanks e Meg Ryan in Insogna d'amore. Sabato 21.10, Rai Movie.